YOLANDA SWEETS Questo video per giovedì perché poi giustamente il clear slime deve riposare Improvvisamente ieri sera mi è venuto mal di gola Quindi abbiate pietà di me se mi sentite tossire o fare qualcosa Comunque oggi come avete capito appunto andiamo a fare il clear slime Perché il video precedente ve lo dico subito ha raggiunto tipo non so quanti like E quindi ve lo siete proprio meritato questo video del clear slime Ve lo dico subito quanti like Almeno ad oggi che è venerdì 21 Il video ha raggiunto 17.787 like Ve ne avevo chiesto 15.000 Quindi siccome per par condizio questo video ha raggiunto 17.000 Facciamo che per giovedì prossimo se volete l'avalanche slime gigante Raggiungiamone altrettante 15.000 Così vi vado a fare l'avalanche slime gigante ragazzi infatti non vedo l'ora di farlo Perché secondo me è una cosa veramente stupenda Suggeritemi sotto altri slime giganti che vorreste vedere con cose strane all'interno Anche che io li vado a fare perché mi piacciono questi slime giganti Iniziamo ovviamente io fortunatamente mi sono andata a prendere un'altra cosa di colla Altrimenti resterai senza colla Allora io qua ho la colla gigante Allora inizio appunto lo faccio in questa ciotola qua Perché è l'unica più grande che ho trasparente Allora inizio col mettere dentro questo misurino qua La colla Allora io vado a fare in ugual parti Allora io vado a fare in ugual parti appunto la colla E l'acqua Quindi iniziamo a mettere la colla all'interno della ciotola Io cercherò di farlo almeno di 3 kg ragazzi questo slime Mettiamo anche quest'altra Vedete la colla Questa qua allora io devo dire che questa qua della giotto non è propriamente trasparente Però il suo lavoro lo fa Quindi raga cioè insomma oddio Oh mio dio non ho fatto uno slime clear così gigante Oh mio dio Ok io prima mi sono accertata che tutto fosse pulito Allora vado a prendere l'acqua perché vado a riempire la mia tazza d'acqua Allora inizio gradualmente a mettere l'acqua all'interno della mia colla Allora la colla quando voi mettete l'acqua poi non deve essere totalmente liquida 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 Perché deve avere una consistenza abbastanza sciropposa Io vi consiglio quando voi fate il clear slime di andare a mettere all'interno l'acqua Perché gli darà una consistenza migliore e farà formare all'interno meno bolle Però il problema del clear slime molte volte quando non si trova in un contenitore abbastanza ampio Potrà formare come penso succederà anche al mio una crosta sopra Ma non ci sono problemi perché io poi la crosta la andrò praticamente a togliere Vado a mettere un altro po' d'acqua Allora questo poi ci sono diverse scuole di pensiero Nel senso c'è chi vuole fare appunto lo slime solo con la colla e l'acqua non ce la mette E invece c'è chi appunto fa lo slime e ci mette la colla Allora raga purtroppo l'unica colla che avevo vi ripeto è questa Che si è trasparente ma ora ve la faccio vedere Aspettate mamma mia ragazzi è pesantissimo Questo è proprio per andarla ad addensare Madonna voglio proprio vedere Allora la colla è questa Purtroppo come potete vedere è un pizzichino giallina E ragazzi quelli americani quando fanno i clear slime hanno la colla della Helmers Ma qua la colla della Helmers Mamma mia quanto costa Costa tantissimo E quindi non mi conviene andare a prendere la colla della Helmers Per andare ad addensare sinceramente vado a usare la soluzione con il bicarbonato Però vado a mettere quello che c'è nel senso la soluzione con il bicarbonato qua dentro Così da diluire appunto già il bicarbonato con la soluzione E da non mettere direttamente la soluzione con il bicarbonato dentro al composto Perché ho abbastanza paura visto che lo slime è veramente enorme Che devo cercare di andare ad aprire perché la devo versare qua dentro Allora io per il momento metto questa quasi tutta la bottiglia Cerco di far andare via Le vedete tutte queste bollicine? Cerco di farla andare via perché non voglio che ci siano le bollicine all'interno della colla Allora io qua ho il bicarbonato Vado a mettere un cucchiaino Così Proprio allora lo prendete Ma E lo fate proprio raso Così di bicarbonato E lo fate sciogliere All'interno della soluzione Ok Adesso non so se devo Se diciamo andare a mettere Anche L'acido borico Sono indecisa raga Allora io gradualmente Vado a mettere Questo E inizio a mescolare Proprio dal basso verso l'alto Guardate Così In modo da far amalgamare tutto bene Allora Voi lo sapete Il clear slime Guardate come sta avvenendo Voi lo sapete Che lo slime In questo caso Sarà bianco Quando si sarà formato Però poi dopo Senterà totalmente trasparente Perché Allora io penso sia di 3 kg Probabilmente Poi lo andremo a pesare Devo andarlo a travassare In un'altra ciotola più grande Perché questo qua Non inizia più ad entrare Per via dell'acqua Vi voglio far vedere Il travaso però Guardate Ragazzi ma questo È un po' gigantesco Oddio non me lo aspettavo Così grande Aspettate Oh mio dio E io questo dove lo metto Qua dentro non ci entra Vabbè magari raga Lo facciamo In più contenitori No raga ma è enorme Oh mio dio Ah qua dentro si mischia anche meglio Raga guardate Ok io direi di andare a mettere Un pochino di acido borico all'interno Per quindi acido borico Dentro E vado subito a mescolare Allora quando fate il clear slime Cercate di Guardate Guardate qua Cercate di mescolare In un unico senso Così Da rendere il tutto più omogeneo Ovviamente le bolle si vanno a formare Si andranno a formare per forza Piano lo stiamo andando a formare Perché non è per così semplice Non è per niente semplice Io non lo vorrei fare Troppo denso Ma un pochino appiccicoso Forse un'altra ondata di acido borico O di soluzione E stiamo a posto Perché io direi che va bene Io direi proprio basta Guardate qua Non avevo Cioè no Io vi voglio far vedere Guardate Io non avevo mai fatto un clear slime così grande Cioè veramente È perfetto Ok Adesso questo qua raga Dopo aver fatto incorporare tutto Deve riposare Per Per almeno 4-5 giorni Io ovviamente non lo lascio qua dentro Ma lo vado a mettere All'interno Di nuovo Della Della ciotola qua Di questa ciotola qua Allora raga Perfetto È andata Guardate Oh mio dio Ci vedete No vabbè ma è epica questa cosa raga Io spero ci entri tutto Però Io ho paura a metterlo tutto E vi dico subito perché Perché Non vorrei Che poi Diciamo il clear Non si formasse Vorrei che Restasse un pochino Di bordo Al di fuori Vado a prendere Un'altra ciotola E vado A mettere Il resto del mio slime Clear All'interno di un'altra ciotola Allora raga Vado a mettere il coperchio Su questo Mi raccomando Ben sigillato Vedete Non vedrete niente Però vedete Ben sigillato Ok raga Il mio intuito Era infallibile Infatti sono 3 kg di slime 3 kg di clear slime E guardate questo Cioè questo praticamente Già è clear Cioè non so se lo vedete Guardate quanto già è trasparente Comunque raga Adesso noi lo dobbiamo far riposare Per almeno 3-4 giorni E noi ci vediamo Quando è diventato Totalmente trasparente Ok codicini Allora si sarà cambiato Anche lo sfondo e tutto Comunque il nostro Clear slime Praticamente è pronto Ed è qua Lo so Purtroppo La colla che uso io Non è la Helmers Cioè nel senso È una colla Che è praticamente Un pochino gialla Però l'effetto clear Cioè guardate qua raga È inutile È inutile parlarne L'effetto clear Ci sta Allora se Se aggiungessi questo A quest'altro Direi che si può fare È diventato veramente Abnorme Adesso si andranno a formare Di nuovo un sacco di bolle Ma va bene Pazienza Non clear clear Perché la colla Non so voi Dove la trovate Super ipertrasparente Ma io su internet Non la trovo Super ipertrasparente Riesco a trovare Solo quella Della Giotto Quella della Cleopatre E non mi ricordo Quale altra marca Che non sono Totalmente trasparenti Ma sono sempre un po' Gialline Infatti questa cosa Mi dà abbastanza fastidio E non capisco Perché Non sia totalmente Trasparente la colla A me piace comunque Spero che sia piaciuto Comunque anche a voi Non vi preoccupate Che ad agosto Farò sempre Video Tutti i giorni Perché mi sto anticipando I video Ora E niente raga Allora io vi mando Un bacione e un abbraccio Aprete la descrizione Troverete il mio facebook Il mio instagram Lo shop per comprare Le mie magliette Attivate la campanella Vi mando un bacione Un abbraccio E noi come sempre Ci vediamo Domani Alle ore 14.30 Con un nuovissimo video Bye bye